Dal vertice romano di ieri la Calabria esce tutto sommato con un'immagine positiva. Il Ministero della Salute ha certificato la quantificazione del debito il 31 dicembre 2008. Il rosso della sanità calabrese fino a quella data monta a 1 miliardo e 200 milioni di euro. Il Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, ha illustrato al tavolo massicci il piano di rientro che ha riscontrato l'apprezzamento dei rappresentanti del Governo. In particolare è stato espresso un parere favorevole sul progetto che riguarda, tra l'altro, la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella territoriale e dell'emergenza urgenza. Ma le buone notizie riguardano soprattutto la possibilità di utilizzare 300 milioni di euro per le aree sottosviluppate, i cosiddetti fondi FAS, e di accendere mutui e tasso agevolato per ripienare i debiti maturati nel periodo compreso tra il 2001 e il 2005. Altre novità positive potrebbero arrivare dal prossimo incontro, che non è stato ancora calendarizzato, ma potrebbe svolgersi già nel mese di novembre. Non si esclude infatti che la prossima riunione del tavolo massicci dedicata alla Calabria consente di ottenere il via libera allo sblocco di una premialità pari a 800 milioni di euro. Somma congelata dal Ministero, secondo quanto riferiscono i vertici della Regione, a causa delle inadempienze della precedente amministrazione regionale. Il quadro della sanità in Calabria, dunque, nonostante le difficoltà che permangono, sembra lentamente andare verso una schiarita. La massima debitoria di 1 miliardo e 200 milioni potrebbe diminuire nei prossimi mesi, sulla base di accordi transattivi posti in essere con i fornitori e con gli altri creditori delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ed anche sul fronte della sanità privata si aprono nuovi spiragli positivi, con il direttore generale della Regione, Franco Zoccali, che dopo aver rappresentato la giunta al tavolo tecnico attivato in prefettura, continua a manifestare la sua attenzione non solo sulla vicenda dell'Istituto De Blasi, ma più in generale sulla riorganizzazione del sistema delle strutture convenzionate. L'obiettivo resta quello di correggere le strutture e le iniquità del passato, ponendo al centro dell'offerta la necessità e il fabbisogno popolare di servizi sanitari di qualità. Il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, è intervenuto oggi durante il programma televisivo Mattino 5 e intervistato dal giornalista Maurizio Belpietro sulla sanità calabrese. Tagliando le spese inutili, ha dichiarato Scopelliti, possiamo produrre una sanità diversa. Nel frattempo siamo riusciti ad abbattere le liste d'attesa passando da 250 a circa 30 giorni a conferma della nostra operatività. Il Presidente si è poi soffermato sugli ospedali calabresi. Abbiamo deciso di riconvertire 18 dei 36 non socomi presenti sul territorio. Inoltre ci saranno tre grandi ospedali Abba, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, più otto Spoke che saranno attrezzati di tutti i reparti tranne quelli della polispecialistica. Questi interventi ci consentiranno non solo di ridurre l'emigrazione sanitaria rispermiando 230 milioni di euro, ma anche di valorizzare gli ottimi medici presenti in Calabria. Il Presidente Scopelliti, informa poi una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, ha infine parlato degli interessi dell'Andrangheta che gravitano nel comparto sanitario. La criminalità organizzata ha un peso notevole nella gestione della sanità in Calabria, ha detto Scopelliti, tant'è che la nostra azione di rinnovamento sta dando molto fastidio. C'è comunque una parte della politica che sull'argomento pensa solo a fare propaganda, mentre per combattere l'Andrangheta, come ho più volte ribadito, servono i fatti e non le parole. L'approvazione da parte della Commissione per la valutazione ambientale del Ministero dell'Ambiente del progetto di centrale elettrica a carbone nel sito della ex liquichimica di Saline di Montebello Ionico ripropone un'arroganza centralistica intollerabile che, in zone leghiste, non avrebbe avuto spazio. E' quanto afferma in una nota il segretario questore del Consiglio regionale Giovanni Nucera della PDL. Mi preme ricordare, prosegue Nucera, che contro il progetto si sono già chiaramente espressi sia il precedente Presidente della Giunta regionale della Calabria che l'attuale, quando era Sindaco del Capologo Regino, e diversi comuni limitrofi territorialmente all'area di Saline Ioniche. A queste decisioni si aggiunge di identico tenore quella dell'attuale Sindaco di Reggio, Giuseppe Raffa, ma altri elementi di forte rigetto dell'ipotesi vanno aggiunti. E' di questi giorni l'annuncio di una procedura di infrazione dell'Unione Europea contro l'Italia per la mancata realizzazione di discarichi in Campania. I cumuli di rifiuti, insomma, ci stanno portando via dall'Europa. Ma anche le 7,5 tonnellate annue di anidride e carbonica che la centrale del progetto 6 produrrebbe sono in netto ed evidente contrasto con le prescrizioni dell'Unione Europea che ha invece imposto all'Italia il taglio e non certo l'aumento di CO2 posto che il nostro paese ha aderito ufficialmente al protocollo di Chioto per la riduzione dei gas ad effetto serra. La Calabria, poi sostiene ancora Nucera, produce ed esporta già verso le aree forti del paese che non vogliono neanche più pagare costi per la loro ricchezza oltre il 66% dell'energia che produce. Sono due terzi di elettricità che non consuma perché non ha industrie e lavoro. Viene la voglia di dire, sarebbe bene che anche altre regioni si accollassero nella medesima percentuale la produzione di energie in eccesso rispetto al loro fabbisogno. E ancora, qualcuno venga a spiegare perché dovrebbe essere economicamente conveniente per l'Italia, che ha immense risorse idroelettriche, eoliche, solari, marine, dover comprare l'energia elettrica degli svizzeri, per di più da una nazione al di fuori dell'Unione Europea, che evidentemente introiterebbe gli utili. Energia che produrrebbero non inquinando il suo prezioso suolo, su cui vigilano norme durissime di salvaguardia ambientale, senza avere dubbi invece, quando si tratta di riversare milioni di tonnellate di anidride carbonica sul nostro territorio, con un risibile vantaggio occupazionale. Negli anni 50 e 60, sostiene Nucera, il Sud ha dovuto perdere, con la deportazione spontanea dell'emigrazione, milioni di braccia che hanno reso ric il Nord. A partire dagli anni 70 abbiamo perso, sempre verso il Nord, gran parte delle categorie sociali più acculturate, diplomate e laureati, senza lavoro, come oggi. Dopo le braccia e le intelligenze, è ormai la fase dell'aggressione all'ultima risorsa importante e vitale che ci è rimasta, il territorio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS